La Sila è bella, la Sila è meravigliosa, in Sila si respira l'aria più pulita d'Europa. Sono solo alcuni dei temi utilizzati per esaltare le bellezze dell'altopiano silano. E quest'estate in molti hanno avuto e stanno ancora avendo la possibilità di constatare quanto viene detto e descritto in favore di questo splendido pianoro al centro del Mediterraneo. Un dono della natura che però in tanti non rispettano e non apprezzano. Infatti i suoi boschi, dopo l'orda di turisti dello scorso mese di agosto, sono invasi da vere e proprie discariche. Uno spettacolo poco edificante non più ammissibile e che ancora una volta evidenzia la mancanza di rispetto e che in molti non si preoccupano dell'impatto ambientale che questo stile di vita può avere sulla natura e sugli altri esseri umani. Se si ama la natura si ha il dovere di portarle rispetto. Bisogna incominciare a combattere la condotta di quanti si comportano in modo rozzo ed incidire dalle istituzioni preposte ad ognuno di noi perché è inutile nasconderlo. C'è il rischio che tutto questo, prima o poi, si potrebbe ritorcere contro l'uomo perché se la natura un giorno si arrabbierà avrà le sue buone ragioni. Bisogna intervenire in tempo, prima che sia troppo tardi perché mai come in questo momento la natura merita il suo rispetto. Grazie.